Matteo Salvini sta per arrivare a Cagliari, ci sono i portuali, ci sono i pastori, ma ci sono anche delle semplici fan. Voi da dove arrivate? Io arrivo da Quarto Sant'Erena. E come si chiama lei? Luciana. E lei? Io da Senai. E come si chiama? E Ritta. Perché siete qua? Per sostenere sia anche la Coldiretti e anche per i pastori, ma anche per vedere Salvini. Voi sperate in un selfie ricordo? Assolutamente sì. Speriamo! Sperate a potersi ricordo, avete già fatto altre foto col ministro? No, io l'avevo visto un mese fa a San Benedetto, quindi non sono... A Cagliari? A Cagliari sì. Lì c'era molta folla. Esatto. E come mai la ricerca di una foto ricordo col ministro? Ci piace, ci piace avere una foto di Salvini. E condividete anche le sue idee, il programma di governo che sta portando avanti. Sì certo, se no non saremo qua, non siamo solo per la foto qua. Allora! Come si see in me. Allora! Allora!